Un soggetto associato alla casa circondare di Cassino, un soggetto ristretto agli arresti domiciliari, tre obblighi di rumore e obblighi di fermio alla polizia poliziaria. Misure cautelari abbastanza rigide che sicuramente sono attagliate a particolare problemi che non hanno parlato di affrontare. L'eroina continua a essere un significante su questi territori mentre negli altri territori sembra che sia in ordine del rischio. Sì, rileviamo questo dato in controtendenza, nel basso Fusinate, questo radicamento dell'eroina in territori che obiettivamente non presentano grandissime problematiche. Probabilmente paghiamo la vicinanza all'area campana, soprattutto all'edore di Domizio, che è fortemente caratterizzato dalla gravitazione di soggetti di sicurezza comunità e di questa attività addirittuosa.